Cristian Gattardico, San Francesco che mantiene l'imbattibilità, un'altra prestazione positiva per intensità, per voglia, per ricerca del gol, della vittoria fino alla fine, esce un 2-2 tra tante occasioni soprattutto nel finale che alla fine può considerarsi giusto. Sì, ci abbiamo provato tutta la partita, abbiamo fatto un'ottima partita contro una grande squadra che è costruita per stare a vertice, abbiamo fatto una grossa partita di intensità, avevamo parecchi acciacati, parecchie assenze, ma quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo. Abbiamo avuto diverse occasioni tra cui faccio fatica a capire come non fai a dare un rigore del genere al novantesimo, così è abbastanza evidente, ma quello poi purtroppo in generale ci dobbiamo fare una ragione. Sì, una direzione arbitrale che è sembrata un po' incerta anche nelle piccole decisioni. C'è un po' di rammarico per non aver saputo sfruttare il momento all'inizio dopo il gol di Totoro, ci sono stati quei 10 minuti in cui la carcarese difensivamente era un po' in affanno lì, forse si poteva trovare un colpo che avrebbe indirizzato ancora di più la partita. Assolutamente, guarda, la prima cosa che ho detto a rientro nei sfogliatoi tra il primo e il secondo tempo, noi fatto l'1-0 dovevamo avere la cattiveria da andare a fare il 2-0, la cattiveria della grande squadra da andare a chiudere la partita, invece non l'abbiamo fatto e poi è uscita la carcarese e abbiamo avuto 10 minuti di difficoltà dove loro hanno fatto due gol, poi penso che nel secondo tempo abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo concesso qualche ripartenza a loro dove potevano anche fare gol, però direi che nel congresso abbiamo fatto una grande partita.